Sotto il minuto Che dobbiamo fare con questo? Misuriamo Cosimo con quello Dai eh Siamo tutti qui per te Che si va? Vado Chachi 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Bravo Dai sono 3 1 2 E 3 Stendi bene 1 2 Vai, 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 vai 3 1,54 1,54 1,54 1,54 Sì Posso stoppare? Sì, posso stoppare? Non mi lo avessi fatto Vorrei dire che servirà Ma non servirà Non mi lo avessi fatto Si Si lamenti Ah Ah Sì Io Grazie.